Ecco, stiamo addentrandoci dentro questo tempo quarisimale, tempo propizio, come ci viene detto, verso la celebrazione della Pasqua del Signore Gesù, perché allenandoci un pochettino ad assomigliargli e allenando la nostra fede perché sia un po' più matura o sia un po' restaurata, possiamo essere coinvolti poi in quel mistero di Pasqua e di Ressurrezione. Però dentro questo tempo quarisimale cascano dentro anche dei momenti che rischiano un po' di scivolare via e non è giusto che sia così. Intanto la celebrazione della annunciazione del Signore, che è infatto determinante perché ci ricorda appunto Dio che si fa uomo. Quindi va bene il Natale quando nasce, ma l'ingresso di Dio nella storia umana è quando avviene l'annuncio a Maria che quindi accoglie nel suo grembo questa presenza di Dio. E poi, come oggi, il fatto di celebrare e ricordare San Giuseppe. Don Riccardo, parleremo un pochettino di altro magari, però un pensiero a San Giuseppe, credo che gli vada. Anche solo per ricordare quest'uomo da una parte, detto dal Vangelo, uomo giusto. E questa parola ha un significato veramente forte. E poi quell'uomo silenzioso alla fin fine, di cui appunto nel Vangelo non si raccolgono parole, ma soltanto atteggiamenti. Un ricordo, credo, che ci stia. Mi piace sempre pensare a San Giuseppe come al custode della Sacra Famiglia. Appunto uno che vive la paternità, anche se nella carne non è diventato padre, però a pieno titolo è padre di Gesù. Uno che ha vissuto bene il suo ruolo di padre, tanto che appunto Gesù, quando doveva parlare di Dio, userà l'immagine del padre. Quindi vuol dire che ha avuto un buon padre sulla terra. Fosse stato uno scavezza collo, avrebbe usato un'altra immagine, perché non avrebbe avuto una bella esperienza di paternità. E l'idea appunto di colui che nel silenzio, però in maniera decisa, virile potremmo dire, si prende cura e carico della moglie, di Maria, di questo figlio che è figlio di Dio, e quindi con la sua intelligenza, con la sua capacità di intravedere, di leggere le cose dal punto di vista di Dio, appunto ascoltando anche quei sogni, che non sono appunto dei fantasmi, ma lo stimolano poi ad agire, a rimucarsi le maniche, ad agire in maniera virile. Ripeto questo aggettivo che mi sembra sia qualche cosa di profondamente legato a San Giuseppe, è colui che permette al figlio di Dio di continuare ad abitare la storia e quindi di salvare l'umanità. Non per niente è il patrone universale della Chiesa. E che quindi ci accompagni anche lui in questo cammino della Quaresima, perché in effetti si tratta di assumere la visuale di Dio, come ha fatto lui. Lui aveva i suoi progetti umani, eccetera, eccetera, e ha colto con fiducia il progetto di Dio. E quindi si è messo dalla parte di Dio nel leggere la sua vita, nel leggere e nell'impostare la sua storia. Una passeggiata però, direi, dentro questo tempo quaresimale ci sta, in una volta, su quelli che sono un po' i testi evangelici che ci accompagnano e ci stanno accompagnando in queste domeniche di Quaresima, partendo da quelle iniziali. Però mi pare che lì ci stia anche un po' il segreto di tutto, perché siamo andati nel deserto con Gesù. Ecco, le tentazioni di Gesù, anche lui messo alla prova, è stata messa alla prova la sua consistenza, diremmo, di fronte alla missione che il Padre gli aveva affidato, il fatto di fidarsi in fondo di Dio, perché questo è il fatto determinante della vittoria sulla tentazione. Poi l'andare sul monte della trasfigurazione, Gesù che prende con sé alcuni apostoli, e sul monte si manifesta, manifesta, diremmo, il suo segreto, l'essere figlio di Dio, questa divinità che lo abita e che esternamente, almeno per il momento, chiaramente non appare. Ecco Riccardo, mi pare che è bello pensare al cammino della Quaresima come un cammino dal deserto, in fondo richiama anche l'esperienza del popolo ebraico, alla trasfigurazione. Uno in fondo che va in montagna, dall'alto, vede, legge, pensa forse le cose in un modo magari un po' diverso. Non è che anche noi, se riusciamo a salire un po' sul monte di questa trasfigurazione del Signore Gesù, partendo anche dai nostri deserti, diciamo, riusciamo a interpretare, a leggere un po' in modo diverso la storia e la vita? Ma certo, è sempre questione un po' dei punti di vista. Quando magari si rimane al piano, sembra tutto piatto, quando invece tu vai in alto e dalla vetta vedi, anche quando andiamo in montagna, d'estate, dalla vetta vedi i nostri paesi, le nostre contrade, tutto assume una dimensione più ridotta. Magari quel mondo che ci sembra tanto totalizzante quando siamo inseriti dentro, alla fine viene collocato nel suo giusto spazio, nell'ottica anche di un orizzonte un pochino più ampio. Bella allora l'idea di salire anche noi sul monte della trasfigurazione, ma poi anche sul monte dell'ascensione, ci addentriamo già nel tempo pasquale, nel mistero pasquale, proprio perché possiamo vedere le cose dal punto di vista del Signore, che alla fine non è qualche cosa che banalizza la nostra vita, quasi dire uno sguardo più grande, cosa vuoi che siano le tue quattro cosette lì, ma se vogliamo colloca la tua avventura, la tua vita, le tue originalità, le tue fatiche, le tue cadute in un orizzonte molto più grande che non minimizza la tua vita, ma la rende comunque un tassello meraviglioso di una storia più grande che profuma di eternità. In effetti forse sta qui anche il senso vero di quella parola convertiti, convertitevi, con cui abbiamo sentito al momento dell'imposizione delle ceneri il sacerdote che cosa ci ha detto, che poi è parola di Gesù, convertitevi e credete al Vangelo, perché in fondo questa parola conversione per noi è sempre un po' ambigua, noi abbiamo pensato di andare a convertire i popoli pagani, per carità, è l'impegno che Gesù ha dato, quello di annunciare il Vangelo a tutte le genti perché tutti possano riconoscere il vero volto paterno di Dio che accompagna la vita, possano riconoscere Lui come Salvatore appunto, però poi forse ci siamo un po' accorti che questa conversione riguarda anche noi, ma allora per quanto ci riguarda, che cosa può voler dire essere chiamati noi, battezzati, magari un po' anche frequentanti, a convertirci? Beh, mi piace proprio questa idea di cambiare prospettiva, sì, conversione vuol dire anche cambia strada, tu l'andresti, se ti accorgi che stai andando a qualche parte che non è secondo il sogno di Dio sulla tua vita, abbi il coraggio di fare marcia indietro, di tornare indietro, e però mi piace anche pensare come, questa conversione come, lascia che il tuo sguardo su te stesso non sia il tuo, che sei alla fine orientato ancora al tuo ombelico, ma lasciati guardare con lo sguardo del Signore, come dicevamo la settimana scorsa, no, lasciati guardare da quello sguardo che ti guarda attraverso i buchi della sua passione, quindi che ti guarda così con le lenti, non dorate di un amore stupido, ma con le lenti, se vogliamo, insanguinate di un amore che ha donato tutto per te. E quindi vedendoti in questo modo qui senti magari anche tutto il peso delle tue pochezze e non puoi non fare, non desiderare di vivere secondo quello che magari è il sogno di Dio, ma lo scegli come gratitudine di fronte a un gesto imberitato che il Signore ha nei tuoi confronti. Ecco, e il cambiamento di veduta e il mettersi dalla parte di Dio nel vedere, nel leggere le cose, ci è poi presentato attraverso i Vangeli delle ultime tre domeniche di Quaresima, la terza, la quarta e la quinta, dove vengono presentati dei momenti di racconto, di parabole, ma anche di gesti che capitano nella vita di Gesù. Don Riccardo, mi pare che lì ci sia dentro la chiamata a leggere in modo altro, in modo alto appunto dal monte della trasfigurazione, del cambiamento, della conversione a interpretare le cose secondo la visuale di Dio, un po' quello che è il rapporto con Dio, con gli altri e anche nel modo di leggere il bene e il male che c'è nel mondo. Credo che lì ci sia veramente il segreto di una saggezza umana letta dal punto di vista del Vangelo e dalla visuale di Dio. Certo, ogni anno i Vangeli della Quaresima seguendo appunto le versioni di Marco, Matteo, di Marco e di Luca, quest'anno stiamo facendo Luca, anche se magari nel tempo di Quaresima e di Pasqua si spazia un po' alcune volte anche nel Vangelo di Giovanni. Comunque, se pure nelle versioni dei tre evangelisti sinottici, la prima domenica è sempre dedicata alle tentazioni, la seconda domenica è sempre dedicata alla trasfigurazione, poi cambiano gli altri Vangeli fino ad arrivare poi alle palme quando viene proclamata la passione sempre nelle tre diverse versioni. E appunto, se l'anno di Matteo è un po' l'anno A, è un itinerario tutto incentrato sul battesimo, l'anno B magari invece, quello dell'anno scorso, cerca di mettere in evidenza alcune caratteristiche di Cristo e ci ricorda che la salvezza è qualcosa che mette Cristo al centro, questo, l'itinerario di quest'anno invece è una riflessione sulla dimensione penitenziale anche della Chiesa, certo facendo riferimento anche al battesimo, facendo riferimento anche alla confessione, che sono sicuramente i due segni più grandi che accompagnano la dimensione penitenziale della Chiesa. però giustamente parlare di perdono, parlare di misericordia anche attraverso il battesimo, attraverso la confessione, vuol dire puntare lo sguardo sul Signore che ci chiede di avere uno sguardo diverso sulla realtà. Ecco, di non pensare che Dio entri nella vita degli uomini per punire o per premiare attraverso le cose della vita. E lo sappiamo tutti, ma poi quando siamo toccati un po' sul vivo ci sentiamo sempre un po' quasi dei castigati e il primo pensiero che ci sfiora è quello di dire cosa ho fatto io di male per meritare questa cosa qui, come appunto se Dio fosse lì dall'alto a premiare o a punire qui su questa terra i buoni o i cattivi. Questo è paganesimo, non è cristianesimo. Ecco, forse il Vangelo che ci fa riflettere un po' su questa cosa e sarà appunto quella della terza domenica vuole mettere in evidenza che lo sguardo del Signore rinnova il nostro modo di essere nella storia. E siamo chiamati a vivere questa storia qui essendo risonanza di uno sguardo benevolo del Signore piuttosto che pensare appunto che Dio entri direttamente nella storia per così muovere le cose che ci capitano per volontà di Dio. Non è questa la prospettiva cristiana. Quindi il modo di leggere la vita, la storia, il bene, il male e così via. E poi arriviamo a quella che è stata sempre chiamata la parabola del figlio al prodico ma che finalmente trova un titolo diverso, la parabola del Padre misericordioso perché qui in effetti viene evidenziato qual è il volto di Dio, qual è il vero volto di Dio come Gesù, figlio suo ce lo ha manifestato. E qui veramente è un ribaltamento che non sempre noi riusciamo a percepire ma se riusciamo a percepirlo è quello che ci mette in pace, ci mette nella serenità del cuore, ci fa un pochettino anche essere davanti a Dio più sereni diremmo. Ma certo, la parabola del Padre misericordioso come anche le altre due parabole del capitolo 15 del Vangelo di Luca ci parlano proprio di questa originalità del Padre che rispetta la libertà dei figli e non cerca, non forza la scelta dei figli perché in quel momento lì sente che il figlio non sta facendo il suo bene ma rispetta anche se prova un profondo dolore e desidera sempre che quel figlio possa trovare la via di casa e quando questo avviene anche se il figlio appunto ormai si sente indegno perché sente il peso delle conseguenze dell'utilizzo sbagliato della sua libertà il padre ridona la dignità perduta dal figlio e questa dignità appunto si esprime attraverso quell'anello che viene messo al dito il rimettere i calzari il far rivestire con un vestito degno che dica insomma di chi è figlio questo disgraziato perché alla fine è un disgraziato del padre che organizza una festa ma del padre che esce anche nei confronti di quel figlio maggiore che si sente un pochino defraudato in qualche cosa di suo perché questo figlio che aveva speso tutto non meritava un trattamento del genere il padre che esce anche nei confronti di questo figlio perché possa comprendere il senso di quello che sta avvenendo e possa partecipare anche lui della gioia di vivere in questa casa il vero volto della storia il vero volto di Dio che è poi il cuore di tutto l'origine di tutto il resto e il vero volto anche dei fratelli diciamo subito che Gesù non ha trovato in questa sua proposta semplicemente delle persone che hanno detto ah che bravo ah che bello perché nella parabola del padre misericordioso e c'è lì comprensione di quel figlio maggiore e conosciamo bene questa parte della parabola nell'ultimo Vangelo Don Riccardo veramente un gesto stupendo formidabile di Gesù spiazzante che trova attorno però delle persone che non volevano capire il cuore di Dio nei riguardi anche di questa donna verso la quale Gesù si rivolgerà in modo veramente diremmo fraterno salvante ma certo c'è appunto il Vangelo che ci ricorda così il perdono della peccatrice quella che doveva essere lapidata perché colta in fragrante adulterio e che lì vorrebbe da dire se è stata colta in adulterio non era sola era con qualcun altro perché solo lei viene condotta da Gesù e appunto Gesù che in un gesto che il Vangelo ci dice prima di parlare mentre gli raccontano dici cosa dobbiamo fare di questa qui si china per terra e si mette a scrivere con il dito sulla sabbia e qua tutti i commentatori del Vangelo dicono ma quando cosa avrà scritto il Signore perché non ci hanno detto cosa abbia scritto poi sulla sabbia e quindi tanti si sono un po' sbizzarriti nel trovare che cosa possa avere scritto il Signore ecco qualcuno ha pensato magari anche saggiamente che in quel momento il Signore si è messo a scrivere tutte le colpe di quelli che erano lì così sdegnati e uno per uno perché lui leggeva dei cuori conosceva quella che era la vita di ciascuno e quindi queste persone di fronte al sapere che appunto quelle che erano le proprie così gli scheletri che magari avevano nell'armadio i cadaveri ancora che avevano nella vita lasciano cadere quella pietra e il Signore si rivolgerà poi a quella donna e fa nessuno ti ha condannata non ti condanno neanch'io va però vivi in maniera diversa riconosci quella possibilità grande che ti è stata data e lascia che questo possa poi illuminare completamente la tua vita beh in effetti se vogliamo raccogliere l'elemento chiave che poi è l'originalità in fondo dell'atteggiamento di Dio che esprime la sua paternità la sua benevolenza la sua misericordia è il tema del perdono Gandhi che non era cristiano apprezzava il Vangelo di Gesù proprio per queste angolature che anche un non cristiano non credente può cogliere sulla croce Gesù arriverà a dire padre perdona loro e lo stavano ammazzando ecco il senso del perdono e caro Riccardo qui probabilmente troviamo non solo il cuore di Dio ma anche quello che è proposto al nostro cuore in una originalità cristiana che ribalta veramente il modo di atteggiarsi verso gli altri come Dio si atteggia verso di noi ma Don Leone tante volte credo che sia capitato anche a te persone che magari parlando dialogando un pochino pensando alla loro vita dicono io non sono capace di perdonare pensavo di avere perdonato quella persona lì perché effettivamente avevo perdonato e poi c'è stato un contrasto e tutto quello che pensavo fosse ormai dimenticato soppito è saldato fuori anzi con maggiore violenza io mi dico sempre una cosa noi siamo stupidi quando confondiamo il perdono con la dimenticanza quando una persona dimentica le cose della vita diciamo ecco c'è qualcosa che non va sta andando fuori di testa non è una cosa non è una situazione bella quindi non possiamo pensare che qualche cosa che magari ci ha fatto soffrire anche tanto possa essere così con un colpo di spugna dimenticato e amici come prima no è ovvio che quando io penso un torto subito una situazione dolorosa che ho dovuto attraversare magari per responsabilità per colpa di qualcuno sto male ci soffro e mi se ne apre ancora una ferita che mi fa male il perdono cristiano è la forza di dire ecco nonostante questa cosa qui nonostante quando ripenso a quella cosa lì e quel momento lì soffro ancora come una bestia e sarai tentato di spaccarti la faccia non ti spacco la faccia e cerco di darti una nuova opportunità ecco di non far finire la nostra vita in quel momento lì di non mettere un muro su con te non voglio sapere più niente di te magari all'inizio mettere un po' un muro può essere anche qualche cosa di buono però sapendo che è una cosa provvisoria più che un muro deve essere un po' un paravento che deve essere poi tolto perché ci si possa aprire a qualche cosa di nuovo se pensiamo questo è lo stile del perdono di Dio che appunto non dimentica il crocifisso il risorto ancora in segni della croce non è che con un colpo di magia Dio padre ristabilisce l'ordine precedente anzi ancora più grande e abbiamo risolto tutto no no la croce mantiene sempre il suo scandalo ma diventa comunque qualche cosa che fa passare l'amore e il perdono del Signore torna quindi quello che dicevamo nello scorso incontro la centralità del croce fisso Gesù in croce da contemplare da ascoltare da qui prendere motivo e forza e forza per poter un pochettino assumere o tentare di assumere quello stesso atteggiamento anche verso gli altri in effetti noi nella Quaresima andiamo verso una giornata della pietra ribaltata quello è l'annuncio pasquale quella pietra ribaltata con il Cristo che risorge glorioso chiediamo un pochettino che anche in noi si ribalti un certo modo intanto di intendere anche il rapporto con Dio trovare quello giusto quello evangelico il nostro modo di rapportarci anche alle cose alla vita alla storia e anche il nostro modo ovviamente di rapportarci agli altri quindi un buon cammino verso quella pietra che si ribalta ribaltando già in senso bello e positivo qualcosa anche dentro di noi chiedendolo perché alla fine la preghiera che potremmo fare Signore convertimi e mi convertirò soltanto così può succedere grazie Don Riccardo sempre della tua testimonianza grazie a voi che ci avete seguito come sempre l'augurio di una buona domenica grazie a voi